Venerdì 21 settembre è stato presentato nella sala a buon arrivo della provincia Rimini Bike Hotel, un club di strutture alberghiere dedicati alla vacanza in bicicletta. Una nuova realtà turistica e ciclo sostenibile che permette di viaggiare attraverso la natura, la storia e le tradizioni dell'entroterra romagnolo, offrendo agli amanti le due ruote appassionanti itinerari fra il mare e la collina. La nascita di questo consorzio conferma quanto sia importante per questo territorio avere anche una diversificazione del prodotto che si offre. L'idea del turismo su bike, quindi sia mountain bike ma soprattutto bici da strade è nata già diversi anni fa, questo non è il primo club di prodotto che si costituisce però è importante che nascano in comune capoluogo e cioè a Rimini, è una perla che ci mancava diciamo così. Questo dimostra che Rimini comunque continua a lavorare, i nostri operatori si sono impegnati tantissimo e ci stanno mettendo l'anima, è quello che farà la differenza. Non è solo un business ma sarà veramente offrire qualcosa di diverso agli ospiti e andarli a colpire sugli interessi. Sport e benessere io credo che in questo momento è diventato un po' uno degli aspetti primari delle richieste. Rimini Bike Hotel comprende un selezionato numero di accoglienti strutture alberghiere situate nella provincia di Rimini che offrono servizi su misura per i ciclisti e vede partecipi l'associazione albergatori della Riviera con il patrocinio dell'assessorato del turismo e del comune di Rimini e la partnership dell'azienda romagnola di biciclette Freewheeling FRV. L'iniziativa è partita da un gruppo di colleghi albergatori quindi con la comune passione del ciclismo questa è stata la spinta iniziale. Ovviamente adesso stiamo lavorando per definire gli standard e allargare l'adesione a tutti gli alberghi di Rimini.